Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video. Ciao a tutti ragazzi, siamo qua in Austria, i laghi sono strappieni di gente. Ciao per i nostri colleghi in Italia. Qui si fanno i picnic per mangiare, la gente è fuori, la gente cammina. Ciao. No, no, no. Vabbè che non siamo in città, in città sono un po' più duri, tipo Salisburgo, Vienna, però per qui la gente si muove, moto, sentite, io sono in cabrio, bellissimo. Salisburgo, assurdo, pieno di gente, la gente esce senza maschere, tranquillamente, camminano. Per i clienti che non hanno la mascheretta ne regala uno, vedete? C'è una marea di gente, anche gli austriaci, che non ci credono a questa cosa, stanno facendo una guerra perché c'è il discorso della app. Loro non vogliono, neanche loro. Qua in Europa sarà un po' dura riguardo a questa cosa. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video.